Un libro che racconta la festa di San Calogero e in particolare la storia, la leggenda, la fede e la tradizione, ma quali sono gli ingredienti di quest'opera? Gli ingredienti sono questi. Intanto abbiamo voluto parlare della tradizione di questa festa dal punto di vista di tradizione popolare e non proprio di religiosità, perché la religiosità non è un compito che ci appartiene, indegnamente saremo non ferrati. Però di tradizioni popolari ne possiamo parlare, perché abbiamo documentato tre anni di immagini fotografiche, proprio come si suol dire, appresso alla processione diurna di San Calogero, dove c'è un itinerario fotografico dall'uscita per tutta la Via Tenea, per tutto il centro storico, quindi è veramente un itinerario di tutta la città vecchia che racconta questa grandissima festa, una festa popolare tra le più affascinanti sicuramente che esistono in Sicilia e di feste popolari in Sicilia ce ne sono tantissime. Noi ci siamo divertiti a fare questa cosa, anche perché stasera noi siamo in una veste insolita, quella di autori di un libro, perché di solito ci conoscete come musicisti, come cantanti da 35 anni che portiamo in giro i nostri canti, abbiamo portato in giro anche i canti su San Calogero, quindi siamo molto amici di San Calogero e per questo lo abbiamo voluto ringraziare pubblicando questo libro. Come si fa a scrivere un libro in due? Abbiamo scritto tante cose assieme con Edoardo, abbiamo scritto un mare di canzoni assieme, abbiamo scritto opere teatrali, adesso ci siamo cimentati nel libro, speriamo di riuscirci.